Oggi è l'11 ottobre 2018, giovedì come tutti giovedì su ChipperTV, vi proponiamo la classe dove faremo una Team WOD. Ancora una volta, come quasi sempre, i team saranno composti da due persone, quindi saranno delle coppie. Lo leggo sulla cartelletta per essere sicuro di non sbagliare. Il Chipper di oggi, perché di questo si tratta, si chiama The Chipper. Sono 3 power clean, 6 push up, 9 air squat. Ogni round gli atleti si alterano fra di loro, ma ad ogni 10 minuti si fanno 400 metri di corsa tutti insieme e rientrando si aumenta il carico sul bilanciere. I carichi e tutto il resto, come al solito, nella grafica qui di fianco. Buon divertimento, ci vediamo domani per l'ultimo WOD della settimana.